I bulber sono specialisti del trampolino elastico, un attrezzo che ricorda il materasso su cui saltavamo quando eravamo bambini, ma che, credetemi, può essere usato solo da acrobati professionisti, come Maveri, Matteo e Claudio. Grazie a tutti. Beh, a guardare i nostri bulber tutto sembra facile e naturale. Viene proprio voglia di provare a saltare come loro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I bulber seguono questo numero da più di dieci anni e possiamo dire che a forza di saltare sono arrivati molto in alto in quanto a bravura. Che ne dite? Grazie a tutti. Con queste incredibili capriole volanti, i bulber sembrano voler arrivare fino al firmamento del nostro circo. E del resto, chi non vorrebbe essere una stella del circo il fei? Grazie a tutti. Grazie a tutti. E ora, signori e signori, Maveri eseguerà un triplo salto mortale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.